Parliamo di piante e di quello che hanno da insegnarci e uno dice come le piante hanno da insegnarci qualcosa ma questo o è pazzo o è uscito di cervello o chissà cosa e invece no le piante hanno da insegnarci non lo dico io ma lo dicono fior fior di professori. Ho avuto la fortuna qualche settimana fa di partecipare ad una conferenza tenuta dal professor Stefano Mancuso dell'Università di Firenze, un biologo vegetale e dal professor Luigi Nobruni, un economista. Che ci azzeccano un biologo vegetale e un economista? Andiamo un attimo a vedere. Partiamo un po' da ciò che dice il professor Mancuso che è l'ultimo di una serie di scienziati che ha preso ad analizzare la vita delle piante. Non sono intesa come coltivazione delle piante quindi la biologia pura e semplice ma come studio dei sensi delle piante ovvero viene fuori che le piante ci vedono, ci sentono, annusano, ricordano e questo per le nostre categorie mentali si capisce bene è una mezza rivoluzione. Partiamo da uno di questi aspetti. Ad esempio viene fuori che l'udito delle piante funziona in questo modo. La superficie delle foglie e di tutte le parti verdi è provvista di piccoli microscopici organismi sensibili alle vibrazioni sonore e questo è stato dimostrato da vari esperimenti. Quindi se io produco una vibrazione sonora di un certo tipo la pianta si comporta in maniera A. Se io ne produco di un altro tipo la pianta si comporta in maniera B. Quindi ampissimamente dimostrato. Un altro esempio riguarda la vista delle piante. Già ai primi del 1900 un certo professor Gottlieb Haberland, spero di averlo detto bene, ha ipotizzato e dimostrato che le cellule epidermiche delle piante sono strutturate a forma di lente convessa che praticamente riflette la luce. E in ognuna di queste microscopiche lenti è presente l'immagine che sta davanti alla foglia. Questo è rivoluzionario assolutamente ed è stato dimostrato poi da altri scienziati fra cui Mancuso. Vi ho raccontato questi due piccoli esempi per far capire che tipo di rivoluzione culturale abbiamo davanti. Per noi le piante sono qualcosa di fermo, statico, immobile, le vedete qui dietro, che al limite crescono, al limite gli cadono le foglie e rinascono nuove, ma a lungi da noi pensare che abbiano una vista, un olfatto, un udito. È una categoria completamente diversa per la quale spesso ci mancano addirittura le parole per essere definita. A questo punto vi posso consigliare un libro che è Verde Brillante, scritto da Stefano Mancuso e Alessandra Viola, in cui sono raccolte tutte queste bellissime storie riguardo le piante. Adesso veniamo alla parte che forse più ci interessa, anche se anche l'altra è interessantissima, che è quella che riguarda l'organizzazione delle piante, intese come singola pianta e come gruppo. E già qua cominciamo a beccare qualcosa di interessante. La pianta non si percepisce come singolo individuo, ma si percepisce come gruppo. Ovvero la pianta di per sé stessa non pensa, fra virgolette, anche qui non abbiamo le parole necessarie a descrivere questa roba, non si vede, non si pensa come un singolo individuo, ma si vede e si pensa come gruppo, come clan. E questo è molto molto interessante. In questo modo le piante, pur essendo ferme, sono in grado di difendersi, perché se un animale si ciberà delle foglie di questa pianta, la pianta accanto sarà comunque parte del clan e potrà far sopravvivere la specie. Anche quella che noi vediamo come singola pianta è organizzata per cluster, ovvero a differenza di un animale, dove se io a qualsiasi animale taglio la testa, scusate il macabro della situazione, l'animale muore. La pianta, se io taglio l'80% della pianta, la pianta non muore, la pianta ributterà i polloni, i rami e si ricostituirà. Infatti, in caso di disastro ambientale, le piante sopravvivono anche dalle radici, noi invece siamo fritti, cotti e mangiati. Questo schema di comportamento permette alle piante anche di essere lente, lentissime, perché non hanno bisogno di scappare se un erbivoro arriva qui a mangiargli le foglie. Essendo organizzate come clan ed essendo organizzate singolarmente con un sistema a cluster, non c'è problema. Possono anche stare ferme grazie alla loro capacità enorme di ricostituirsi. In questo caso, lentezza non vuol dire inefficienza. Come la dimostriamo questa efficienza? Con un dato molto semplice, ma piuttosto sconcertante, che ci raccontava il dottor Mancuso alla conferenza. Le piante costituiscono il 99,7% della massa organica presente sul pianeta Terra. Gli animali costituiscono lo 0,3%. A questo punto chi è più efficiente, le piante o gli animali? La risposta sembrerebbe scontata. Bene, a questo punto il professor Luigi Nobruni come collega tutte queste belle cose rivoluzionarie con l'economia. Riportiamo questo esempio che faceva lui. Se noi pensiamo all'impresa capitalista, diciamo all'impresa standard che tutti conosciamo, strutturata in maniera gerarchica, funziona così. Come un animale, se io taglio la testa, quindi se io taglio il vertice, l'animale va in tale crisi che muore. Così per un'impresa, in genere, se io taglio i vertici, ci vuole un gran processo di riorganizzazione per far ripartire l'impresa. Invece, in un'impresa organizzata in maniera vegetale, anche qui passatemi il termine, succede cosa? Che se in tutti gli elementi dell'impresa, in tutti gli operai, in tutti gli impiegati e quant'altro vi viene in mente, è presente lo spirito dell'impresa, e quindi il perché stiamo facendo questa azienda, il perché stiamo lavorando, anche se io tagliassi il 50% del personale di quell'azienda, il restante 50% sarebbe capace di ricostituire l'intera organizzazione. Abbiamo un esempio di questo già nelle cooperative, nelle reti di imprese, in diverse ONG, e anche in alcune esperienze economiche legate all'imprenditoria etica, per esempio l'economia di comunione, che cercano di lavorare in questo modo. Provate a cercare gli articoli che ha scritto il professor Bruni sull'impresa vegetale, lì spiega molto meglio di me, ovviamente, tutte queste belle cose. Ve lo avevo detto all'inizio che c'è parecchio da imparare dalle piante. Abbiamo parlato di economia, ma c'è da parlare di tecnologia, di studio delle reti, non solo di imprese, ma anche delle reti informatiche, che a quanto pare funzionano come le reti delle piante. E quindi se avete voglia di approfondire, andate a cercare un po' attraverso i libri e gli articoli che vi ho consigliato, troverete molto molto di più. Se vi serve, siamo comunque qui.